E' entrato in azione a mezzogiorno, cappuccio in testa, occhiali scuri, volto coperto, il rapinatore solitario ha colpito la farmacia comunale alla pace di via Rezzonico a Padova. Un modus operandi consolidato, armato di un coltellino, il malvivente ha intimato alla farmacista presente di consegnare tutto l'incasso, 100 euro in contanti, poi è fuggito in bici, facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non si tratta del primo colpo in città, dove il malvivente è tornato in azione dopo una breve pausa.